Ciao ragazzi sono Follish e benvenuti in un nuovo video, anche oggi siamo su Clash Royale E finalmente mi è uscito il baule gigante Yeeey Con i capelli più scombinati del mondo Adesso vanno meglio Già Comunque tralasciando le stronzate, anche se io sono una stronzata Dobbiamo aspettare 33 secondi Intanto vi faccio vedere il mio deck aggiornato Porca dove sto andando, no no Calmati, calmati Allora, ho i barbari a livello 5 e mi sto trovando benissimo Li uso soprattutto o per mandarle avanti O alcune volte per la difesa Quando mi buttano una strega O un altro, o il cavaliere Anzi, anche con il cavaliere sono abbastanza forti Poi ho gli sgherri a livello 5 Gli sgherri li uso soprattutto perché hanno un costo di elisir abbastanza basso E per il danno che fanno e per la vita che hanno Tre di elisir, eh, è buono Vabbè, il mini pecca è ottimo Cioè, toglie un botto di vita Infatti non vedo l'ora di sbloccare il pecca Uso la palla di fuoco perché, vabbè, serve sempre qualche cosa di difesa A volo Ta, così per distruggergli le truppe La mongolfiera che è fantastica Già a livello 1 toglie un botto Cioè, toglie 200 danni al secondo No, aspetta Eh, 200 danni al secondo Più 600 danni E danni alla morte 100 Non so, non so un cazzo di quello che sta scritto Non so un cazzo So solo che quando muore caccia la bomba E dà un botto di danni La bomba non fa tanti danni Però meglio di niente Abbiamo il gigante A livello 3 Sto cercando di farlo salire di livello Perché a livello 3 non è chissà che Poi abbiamo la lorda di scheletri Che anche a livello 1 è da Cioè, la devi avere nel mazzo Perché ti distrugge il gigante Ti distrugge il cavaliere se lo bozzi attorno E poi abbiamo il cucciolo di drago Che è sempre figo L'apriamo, l'apriamo Incrociamo tutto quello che si può incrociare E non pensate a male Quello non si può incrociare Fidatevi, non si può incrociare Almeno spero Vai, vai, vai 1045 di oro E vai E poi 9 arcieri Ma che me ne faccio Degli arcieri Dai Mi vado nell'angolino a piangere Vado nell'angolino Perché? Dammi qualcosa di buono Qualcosa di buono Ma porca miseria 113 scheletri 113 scheletri Che schifo Che schifo Che schifo Comunque Ho creato un clan Se volete potete Potete entrare E... Anzi Salutate YouTube Ciao a tutti Eccolo la Giove XGD Comunque non mi è uscito Un cazzo Dal baule gigante Per cui io direi Di fare Una battaglia Sono ancora in arena 3 E... Vabbè Mi devono uscire le carte Se no in arena 4 Come cazzo ci arrivo Comunque Andiamo subito Penso di gigante Vediamo lui che butta No non butto Cazzo Aspettami No ho buttato Vabbè Di gigante E di Draghetto Poi butto anche Gli sgherri Ma non per qualcosa Ma perché gli devo distruggere Quel cazzo di coso In fretta e furia E ovviamente Gli sgherri si dividono Gli sgherri fanno sempre Sta cosa Due da una parte Uno dall'altro Non ho mai capito Il vero motivo Però Fanno sempre così Oh però Con la calma Con la calma Dove andate Distruggi quel cazzo Di gigante Ok Io l'abbiamo distrutto Il gigante Ah mostro Dai che sto gameplay Sembra che lo vinciamo In fretta e furia E Io direi di butta Oh sta laggando Di brutto Sul computer Adesso ci ho fatto caso Scusatemi Ma io sto guardando Un da cellulare Perché se no Mi trovo Un po' in difficoltitudine Gli butto Un'orda di scheletri Sperando che non mi Oh E va proprio Sbagliare Perché mi va a buttare Proprio il Il cavaliere Sbaglia tantissimo Qui Penso che Oh Non me l'hanno distrutto Ma perché Perché No e mo mi fa fuori Il gigante Ma porca Ma porca No Ma dove Con quale logica Logistica Uccidi quel cazzo Di cavaliere Porca miseria A me ha fatto La torre laterale Mannaccia Giuda Mannaccia Però sta laggando Di brutto Eh Non mi fare così Allora E che cazzo gli butto Io direi di buttargli I barbari Il draghetto qua Che sto draghetto Mi ha già cagato Un po' di Di cacchio Poi Direi Di buttargli Allora Che cazzo Cioè è inutile Mettere quella cosa là Direi di buttargli Questo qua Perché poi Io voglio buttare Questo a voi Vai 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 Distraetelo con quella Vai 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 che se gli è andata La mongorfera Inizia ad attaccarlo Abbiamo vinto Vai che se gli è andata No 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 Abbiamo vinto No E fa che vinciamo E fa che vinciamo Arralletti Arralletti Più brutto del mondo Ma vieni Ma vieni Si Baule d'argento Ma non me ne fotte un cazzo Il baule me ne fotte Che abbiamo vinto In un modo bellissimo E Tre cor Uh Altre tre corone per aprire Il baule della corona Ehm Follish proprio tu Un sogno si è avverato Ciao Davide Ciao Apo Ehm E ciao Boss2 Follish facciamo un duello Aspetta un attimo Sto Un attimo Registrando un video Dopo Forse si Ehm Comunque vorrei fare una nuova serie Che oggi Ho anche detto sul clan Che è Gli scontri Proprio contro i miei fan Mentre registro un video Ehm Ditemi se vi può piacere Nei commenti Così la faccio Comunque Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare mi piace E niente Andate a vedere un altro video Sul mio canale Ciao ciao Aiu Ciao a tutti Ciao a tutti